Dopo la proroga di 15 anni per le concessioni demaniali prevista dalla legge di bilancio, gli imprenditori balneari si mettono all'opera per capire nella pratica come affrontare la novità positiva. Il primo risultato, secondo gli addetti lavori, sarà lo sblocco degli investimenti. Lo spettro della direttiva Bolkestein, infatti, che prevedeva la messa a gara delle concessioni, aveva portato ad una fase di stallo in un comparto fondamentale per l'economia, anche abruzzese. Per fare il punto della situazione, i balneatori si sono riuniti in Assemblea d'Albadriatica per confrontarsi su una serie di novità normative. Dalla proroga delle concessioni demaniali alle strategie sindacali, canoni, abbattimento dell'IVA, tari ed erosione costiera, sono gli argomenti che sono stati al centro della riunione promossa da Sib Conf Commercio, dunque una vera e propria Assemblea interregionale, alla presenza di operatori provenienti da Abruzzo, Marche e Molise, su una serie di temi di stringente attualità. Sicuramente per valutare positivamente quello che è stato ottenuto con la scorsa legge di stabilità, un primo passo per mettere in sicurezza questo importante settore del nostro paese, ma anche per concordare, valutare, discutere con i balneari i prossimi passi, perché la messa di sicurezza fisica, economica e giuridica di questo settore è al di là dall'essere conseguito e raggiunto. Ci auguriamo che in queste ore il Parlamento dia giustizia a una parte del nostro mondo, la parte più debole e più maltrattata, che sono i pertinenziali, sospendendo, come abbiamo chiesto, sia l'esecuzione coattiva di canoni sicuramente insostenibili, sia la sospensiva per eventuali provvedimenti sanzionatori di decadenza delle aziende, perché in questo modo le famiglie perderebbero non solo l'azienda e il lavoro, ma anche i loro beni. Ma noi riteniamo che comunque si debba mettere mano ad una riforma organica del codice della navigazione per eliminare tutti i fattori di precarietà di questo mondo.